Ciao a tutti ragazzi, sono Iwan Shawn e come promesso oggi voglio parlarvi della nuova versione della Firestorm per poter overclockare la vostra scheda video Zotac dell'Nvidia. Nel video precedente che potete trovare in alto o comunque sotto in descrizione vi parlavo della vecchia versione della Firestorm compatibile però con le schede video GTX serie 10 mentre questa nuova versione è compatibile, almeno così dicono sul sito, con le RTX e le GTX serie 16 con architettura Turing, quello di prima invece è architettura Pascal quindi proprio indicato per la mia scheda video la 1060 appunto della Zotac però voglio testare se questo qui è compatibile lo stesso con la mia scheda video adesso lo vedremo insieme, quindi c'è da fare comunque la solita procedura andiamo sul sito, troverete il link sempre in descrizione andate in fondo alla pagina e qui abbiamo come vi dicevo le due versioni nel video precedente ho installato questa proprio adatto per la mia scheda video quindi GTX architettura Pascal mentre adesso andremo a testare questo qui compatibile con le RTX e GTX serie 16 la mia serie 10 come vi dicevo, architettura Turing scarichiamo, installiamo e questa è la nuova schermata perché voglio provare questo? perché questo qui ha una funzionalità che il software precedente non ha praticamente anziché andare noi a toccare e overclockare manualmente appunto questi parametri e toccare manualmente questi parametri c'è questa funzione OC Scanner che ci permetterà di overclockare cioè farà un test di tutti i vostri componenti e overclocka la vostra scheda video in automatico in automatico, chiedo scusa e quindi vedremo se andrà a settare i parametri come li ho settati io manualmente o addirittura superiore se me li setta inferiormente allora preferisco farlo io manualmente perché l'ho testato e quindi mi trovo bene allora prima cosa andiamo qui OC Scanner arriva questa schermata Yes lui adesso sta analizzando ci impiegherà un 10-15 minuti quindi lasciamo fare tutto a lui vediamo un attimino qui si sentono le ventole che sono aumentate del mio pc quindi starà già procedendo vediamo a che frequenza arriva io nella vecchia versione diciamo vecchia versione sono riuscito a portare il GPU clock a 176 MHz e il boost clock a 1.948 e poi ho toccato il memory clock e l'ho portato fino a 95 quindi vediamo adesso lui cosa farà nel frattempo stop e dopodiché vedremo il risultato finale allora ragazzi qui ha terminato sono 53 più o meno 18-19 minuti praticamente mi comunica che l'analisi è stata completata abbiamo determinato che le impostazioni ottimali della vostra GPU per la scheda grafica sono di 39 MHz però io col vecchio software quindi manualmente facendo quei test che appunto avete potuto vedere nel video l'ho portata non a 39 ma a 95 comunque facciamo applica quindi applichiamo queste impostazioni andiamo a vedere qua allora GPU clock 39 io GPU clock addirittura a 176 avevo portato manualmente il boost clock qua me lo porta a 1811 io ero riuscito a portarlo a 1948 quindi diciamo la configurazione che ho fatto io che è proprio estreme perché andavo a toccare un altro parametro e comunque mi si impallava il computer non l'ha fatta non l'ha fatta però non è male per chi non volesse rischiare può appunto effettuare questo tipo di configurazione automatica dopo di che vediamo qui memory clock lo ha lasciato a 100 memory clock effettivamente io l'avevo portato a 95 qui invece me l'ha portata a 100 no 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 l'ho lasciata a 0 ho sbagliato io il power a 100 e ci siamo 83 qui no io qui avevo aumentato anche la mia la mia memoria l'avevo portata a 95 addirittura quindi comunque sia forse non è tanto compatibile appunto con la GTX ma è più compatibile con le RTX però funziona lo stesso anche perché giocando comunque un minimo di overclock c'è però se volete appunto usare un pochettino usate la vecchia versione e fatelo manualmente come vi ho spiegato io una cosa molto importante lui però non ha settato le ventole sono rimaste in automatico quindi se la temperatura delle appunto della della scheda video aumenta andate su advanced qua a sinistra e settatele in questo modo poi dipende dal vostro case però io sono partito al 30% e sono salito a scaletta ok applica così le ventole arrivata a una temperatura di 50 la scheda video arrivata a una temperatura di 50 gradi le ventole gireranno al 70% così si mantiene diciamo una temperatura bassa che deve essere comunque sotto gli 80 gradi ragazzi soddisfatto un pochino perché comunque in automatico la overclock naturalmente credo sia più indicata appunto per le nuove schede video però devo dire niente male perché in automatico ha settato i parametri diciamo ottimali per non far crashare il vostro computer se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale per qualsiasi domanda scrivete sotto e io cercherò di rispondere a tutti quanti ciao ragazzi e io cercherò di rispondere